Cominciamo, allora buongiorno a tutti benvenuti a Isola Ursa sia per voi che siete qua in presenza che per tutti gli studenti collegati in streaming. Allora questa per chi non lo conoscesse Isola Ursa questo progetto divulgativo relativo alla sostenibilità ambientale che è arrivato alla quinta edizione e quest'anno per la prima volta lo portiamo qui alla Fiera del Levante, Fiera Saie di Bari quindi grazie per averci accolto innanzitutto in Puglia. Allora questo progetto come dicevo prima ha come tema principale la sostenibilità nel modo più ampio possibile quindi un po' in tutte le sue declinazioni. Una di queste, la più importante e del motivo per cui siamo al Saie oggi è la liaison che collega quella che è la tutela dell'ambiente, il valore della sostenibilità con il tema dell'edilizia, la progettazione quindi con uno sguardo verso il futuro progettazione di nuovi edifici e invece con uno sguardo invece all'aspetto attuale quindi come gestire in modo efficiente dal punto di vista energetico il costruito quindi gli edifici già esistenti. Questo progetto è reso possibile da quattro anni a questa parte grazie alla collaborazione e al supporto di Ursitalia che è l'azienda che promuove e investe nella formazione delle nuove generazioni. Ursitalia è un'azienda che è leader a livello internazionale nella produzione di materiale volto all'isolamento termico e all'isolamento acustico quindi approfitterei che ho visto qui l'ingegner D'Andrea che è il direttore tecnico e marketing dell'azienda per fare con breve saluto. Buongiorno ragazzi benvenuti, è un piacere avervi qui per questa oretta e mezza di formazione e come è stato già anticipato noi ci occupiamo di isolanti termici e acustici come azienda ma appoggiamo questo progetto di formazione che va a cercare di informarvi di più sulla sostenibilità ambientale, dell'edilizia, di comportamento. Oggi il focus è prevalentemente sulla progettazione perché il relatore che mi seguirà è un esponente di casa clima quindi protocollo di certificazione degli immobili. Vi lascio con l'agurio di tornare a casa con qualcosa di in più e di fare sempre meglio nell'ambito della sostenibilità di questo pianeta. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Prima di cominciare però con la relazione mi sembra giusto e doveroso ringraziare quelli che sono gli enti che patrocinano il progetto che sono come si vede alle mie spalle il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura oltre agli ordini professionali ma quest'anno anche il Ministero dell'Istruzione. Ne abbiamo invitato il Ministro Bianchi che non ha potuto essere qui però ha inviato una lettera che aveva piacere che venisse letta in occasione dei convegni e quindi ve la leggerò io. E dice più o meno così. Desidero inviare i più sentiti apprestamenti per la realizzazione di questa iniziativa che costituisce un prezioso momento di confronto e educazione alla sostenibilità ambientale. Tale progetto si inserisce pienamente nel percorso di rigenerazione, di transizione ecologica e culturale che la nostra scuola è impegnata a realizzare mediante la rigenerazione dei saperi. Cioè di cosa si impara a scuola? La rigenerazione delle infrastrutture con la costruzione di edifici innovativi e creazione di nuovi ambienti di apprendimento. La rigenerazione dei comportamenti mediante la valorizzazione di corretti stili di vita rispettosi dell'ambiente che ci circonda. E infine la rigenerazione delle opportunità attraverso la valorizzazione dei temi dell'ecologia e della sostenibilità. Desidero pertanto esprimere un sincero apprezzamento per l'iniziativa da voi promossa che è espressione di un modello di comunità educante, aperta e dialogante, che favorisce il confronto e la partecipazione delle nuove generazioni per contribuire attivamente e responsabilmente allo sviluppo del nostro Paese, ispirato un futuro umanamente sostenibile. La vostra isola, luogo di scoperta e aggregazione, sede privilegiata per catalizzare risorse, interessi e curiosità attraverso il dialogo e condivisione di competenze ed esperienze, rappresenta un importante modello di patto di comunità che sia inclusiva e solidale. Invio a lei e a tutti gli studenti e alla loro comunità scolastica, tutti i partecipanti e organizzatori, un affettuoso saluto con l'augurio di un proficuo lavoro e entusiasmante partecipazione. Il Ministro Patrizio Bianchi. Bene, adesso direi di lasciare la parola ai nostri relatori di oggi, che sono appunto, come diceva prima, rappresentanti di Casa Clima, l'Agenzia per l'Energia dell'Alto Adige, che abbiamo il piacere di avere come collaborazione da diversi anni, diverse edizioni di Isola Ursa, per parlare di quello che è il sistema Casa Clima di certificazione degli edifici e calarlo qui nel contesto del vostro clima mediterraneo. E a seguire insieme, quindi, innanzitutto con l'architetto Luca De Vigili di Casa Clima e poi con l'ingegnere Calia Fabrizio, che è un consulente Casa Clima Bari, quindi locale, che porterà invece una case history di riqualificazione energetica del costruito. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, è un piacere essere qui, chiaramente, e di parlare un po' del protocollo Casa Clima che credo, o meglio, spero, possiate cogliere gli elementi di attenzione su delle questioni, vedremo, involucro, soprattutto, la tenuta all'area dell'involucro e così via, concetti che purtroppo ancora oggi, in ambito nazionale, in ambito di calcolo energetico, secondo legge nazionale, non sono considerati e che invece noi, nella nostra esperienza, consideriamo fondamentali. Qualcuno dirà, ma perché qualcuno di Bolzano ci viene a insegnare come si fanno le case in sud Italia, dove fa caldo? In realtà la condizione climatica di Bolzano è un po' particolare, tra parentesi. Bolzano è una città tra le più fredde d'inverno, ma anche tra le più calde d'estate, quindi c'è questo doppio alla situazione, effettivamente sappiamo cosa vuol dire il caldo. Ma a parte questa cosa, ciò che Casa Clima, con il proprio protocollo di certificazione Casa Clima, ha sviluppato, è una serie di regole, di attenzioni, che noi riteniamo quelle regole e quelle attenzioni veramente importanti per fare un edificio che sia effettivamente a basso consumo, ma soprattutto confortevole. Ripeto un po' quello che ho detto ai vostri colleghi che sono venuti prima, alla fine per fare un edificio prestante bisogna un po' applicare il concetto del frigorifero, non è molto lontano, qui siamo in questa esperienza, non ho a che fare con tecnici, ho a che fare con gli studenti, quindi c'è anche un'esperienza didattica e mi piacerebbe che determinati concetti, che sono poi semplici, possono essere trasformati in tante equazioni, ma alla fine sono concetti estremamente semplici, vi entrino come elementi importanti. Per fare un edificio quindi, ripeto, ben efficiente da un punto di vista energetico, quindi che consumo poco, si applica un concetto del frigorifero, il frigorifero è ben coibentato, ben isolato e soprattutto è ben sigillato, perché sapete benissimo che se la porta del frigorifero non è a tenuta ermetica, perde, praticamente all'interno non riuscirete più a mantenere quella temperatura, oppure per mantenere quella temperatura dovrete far girare molto di più il vostro motore e quindi di consumare di più. Quindi sostanzialmente le questioni sono molto semplici, per avere un edificio efficiente bisogna coibentare, spingere molto in là la coibentazione e questo mi aiuta a proteggermi sia dal caldo ma anche dal freddo e deve essere sigillato. Noi con questi concetti li abbiamo sviluppati praticamente già nel 2002, quando vi ricordo che solo nel 2005 in Italia la certificazione energetica è diventata obbligatoria. Le regole che abbiamo fissato per poter fare questi edifici efficienti sono delle regole che sono nate dalla nostra esperienza, la cosa non è partita nel 2002, non è partita molto più in là, addirittura è partita in Alto Adige negli anni 90 dalle esperienze che si stavano facendo in Austria, Germania, Svizzera e così abbiamo sostanzialmente creato un protocollo il più semplice possibile ma che garantisce quegli elementi fondamentali che ripeto danno efficienza energetica e comfort. E una delle cose che abbiamo visto è che bisogna progettare bene nell'edificio, fare attenzione a determinate questioni ma soprattutto bisogna controllarlo poi in fase di realizzazione dell'edificio che effettivamente quelle cose che sono state messe nel progetto effettivamente sono state realizzate. Ora questo protocollo che è obbligatorio solo nella provincia di Bolzano in realtà è piaciuto per il concetto di qualità e di comfort che garantisce poi a tutta l'Italia, devo dire oggi abbiamo come vedete i numeri più di 1800 consulenti, 250 uditori, 140 aziende partner, delle strutture ramificate un po' in tutta Italia, ci occupiamo di tutte queste cose quindi oltre alla certificazione facciamo anche chiaramente consulenza, ricerca, comunicazione, quello che sto facendo io, abbiamo documenti di informazione, informazione tecnica, questa è la rivista Casa Clima, se scrivete in Google rivista Casa Clima 2 gradi arriva su una pagina dove potete mettere il vostro indirizzo e vi può arrivare il giornale gratis, quindi insomma un passetto in più. Oppure addirittura un documento che secondo me per voi che iniziate in qualche modo a cercare di capire un po' di più che cosa vuol dire un edificio efficiente dal punto di vista energetico, il nostro Vademecu è un manuale fatto per i committenti, per una persona che non ha quindi diciamo così una formazione tecnica e che spiega nel modo più semplice possibile cosa ci vuole per fare un edificio efficiente, anche questo lo potete visualizzare perché su UC praticamente lo trovate libero oppure potete scrivere il vostro indirizzo e vi verrà spedito a casa. Ecco questi sono diciamo così documenti principali ma chi siamo noi? Siamo un ente di proprietà 100% della provincia di Bolzano, quindi non siamo un'azienda che ha obiettivi di scopo di lucro ma sostanzialmente il nostro core business, la nostra attività è quella di fare promozione nell'ambito dell'efficienza energetica e nel far evolvere in modo positivo le competenze tecniche per fare edifici ad alta efficienza energetica e uno degli elementi che caratterizza per esempio il nostro protocollo qui arriviamo a questo, è il test di tenuta all'aria, qualcuno di voi forse ne ha sentito parlare, qualcuno di voi no, lo ripeto è una cosa molto semplice, una volta che è finito l'edificio, l'edificio viene messo, vedete come in questo schemino qua viene messo una macchina con una ventola, questa ventola toglie aria nell'edificio oppure spinge aria nell'edificio, con questa ventola noi misuriamo la tenuta ermetica dell'edificio, se abbiamo visto prima il concetto, questo parallelismo, questa similitudine con il frigorifero andiamo a misurare quella che è la tenuta della guarnizione, però sapete che nell'edificio ci sono tante possibili guarnizioni, quindi questo vuole dire, noi abbiamo progettato bene quegli elementi di collegamento dei diversi elementi che caratterizzano l'edificio, li abbiamo costruiti bene? Allora sì, ma non lo so, devo verificarlo, lo strumento per verificare queste cose si chiama Bloverdor Test e tutti i nostri edifici certificati hanno come obbligo di fare il Bloverdor Test e deve il Bloverdor Test risultare sotto un certo limite. Ecco, questa è la distribuzione in Italia degli edifici che abbiamo certificato fuori provincia, come vedete è chiaramente Bolzano, Nord Italia, ma l'edificio più a sud che abbiamo certificato è a Ragusa, quindi insomma abbiamo anche una notevole esperienza per quanto riguarda, diciamo così, anche gli edifici che si trovano in un clima prevalentemente caldo. Questioni energetiche, ormai la questione è importante, la questione climatica finalmente devo dire è entrata nell'interesse dei grandi edifici del pianeta. Nel nostro piccolo, nell'ambito della costruzione degli edifici possiamo fare qualcosa? Sì, possiamo fare molto, perché per esempio se vedete un edificio standard, quelli degli anni 60-70 più o meno oscilla in queste categorie, 250-140 kWh a metro quadro, cioè l'energia è di cui ho bisogno per riscaldarlo durante il periodo di riscaldamento. Calcolate che i 250 kWh corrispondono circa a 25 o 15 metri cubi di metano a metro quadro che io devo consumare durante il periodo di riscaldamento per climatizzare il mio edificio. Capite cosa vuol dire quando inizio a parlare di edifici casa clima B, casa clima A o addirittura casa clima gold, dove praticamente i consumi da 250 a 100 arrivano, cioè praticamente si dimezza di un decimo. Questi si parla di edifici che praticamente quasi non hanno bisogno di un sistema di riscaldamento, quindi fanno bene al pianeta ma fanno bene anche al portafoglio delle persone e garantiscono soprattutto grande comfort. Il nostro protocollo, come dicevo, attenzione al progetto ma soprattutto attenzione al cantiere su due fasi che noi controlliamo molto bene. Questo è un esempio di come andiamo a controllare i dettagli costruttivi. Qua ho dei ragazzi che stanno studiando il progettare. Io sono architetto, ho fatto la formazione, diciamo così, tutto l'iter di formazione. Ho vissuto gli anni 90, 90-2000 delle scuole di architettura e sostanzialmente dettagli non li ho mai progettati. In realtà poi ho fatto un'esperienza lavorativa in Germania e lì ho imparato a fare attenzione ai dettagli costruttivi, per esempio. Ma questo non vuole dire che è del mondo della Germania l'attenzione ai dettagli. È che nell'ambito della progettazione, per esempio in Germania, non esiste fare un progetto anche di una casa o di un familiare senza i propri dettagli costruttivi. Quindi consiglio che vi do, veramente un consiglio importante, pensate sia ai progetti ma iniziate fin da subito a pensare poi ai relativi dettagli costruttivi, va bene la composizione eccetera, ma bisogna pensare anche poi come dovranno essere realizzati quegli edifici. E in cantiere non ci può essere improvvisazione, non può essere il muratore, non può essere il manovale che decide come posizionare una finestra, come mettere l'isolante eccetera. Questo è il compito del progettista, siete voi che dovete studiare, dovete capire, dovete pensare alla soluzione prima, disegnarla. E quindi poi condizionare. E poi noi per esempio andiamo a verificare in cantiere, cioè andiamo col metro, vedete le foto col metro, a verificare che poi esattamente se tu mi hai messo che quella parete aveva 10 cm di materiale isolante, io vado effettivamente a poi controllare che tu abbia messo effettivamente quella quantità di materiale isolante. E poi come dicevo il bloverdo test, molto importante, questo test che misura la sigillatura dell'edificio. E poi se in qualche modo si rispettano tutti questi requisiti, si ottiene la targa che è una targa di riconoscimento della soddisfazione appunto di tutti questi requisiti. Qui cosa ci troviamo? Qui ci troviamo in un report, non va più, un report fatto da Lega Ambiente qualche anno fa. Quello che vedete, quelle immagini, sono immagini termografiche, cioè misurano la temperatura, le diverse temperature dell'edificio. Se l'edificio è coibentato bene, senza errori, avete una superficie con una temperatura molto molto bassa. In questo caso, visto che c'è un codice colore delle temperature, colori sul blu, temperature fredde, colori sul rosso giallo, temperature alte, capite bene che in questo edificio la temperatura superficiale è molto bassa. Quando ho la presenza di queste situazioni in cui il calore mi attraversa praticamente l'edificio, quelli si chiamano ponti termici, che all'interno porta ad abbassare la temperatura, ma all'esterno porta ad alzarsi la temperatura, che se faccio la fotografia lo vedete, no? Segna rosso. Questo vuole dire che è un edificio che è stato progettato, ma soprattutto costruito male. Questo report, quello che viene fuori è che tra 500 città italiane, l'unica città che risponde in modo corretto agli edifici privi di ponti termici è Bolzano, dove, guarda caso, è obbligatorio il protocollo di certificazione Casa Clima. E poi i controlli. Se noi andiamo a vedere la certificazione energetica nazionale, i controlli che vengono fatti dagli enti di certificazioni sono controlli documentali, al massimo 4-5%, ma solo di documenti. Noi invece, come vedete, facciamo dei controlli fisici sul cantiere e controlliamo il 100% degli edifici che andiamo a certificare. È un impegno, certo che è un impegno, ma questa è l'unica strada per garantire che effettivamente l'edificio risponda a certi requisiti. Questi sono i nostri protocolli di certificazione, questa è la certificazione standard Casa Clima, questo è l'R, che vuol dire riqualificazione. Voi, come seconda parte, vi vedrete questo protocollo particolare che fa attenzione alla riqualificazione. Nature, siamo un passo all'interno dei protocolli di sostenibilità e poi abbiamo dei protocolli dedicati di sostenibilità, vedete, proprio per attività specifiche. La scuola, per esempio, qualche anno fa uscì dall'Enea un documento alla buona scuola, forse qualcuno l'ha sentito, e via dicendo, questo è un documento che venne prodotto da noi e che gentilmente regaliamo per la collaborazione che è nata oggi con l'Enea e nasce da questo protocollo, il nostro protocollo school, tanto per farvi capire. Questo lo possiamo saltare e il concetto è nell'ambito della riqualificazione. Perché si deve riqualificare con qualità? Perché classico caso, sostituzione delle finestre. Cambio le finestre e mi porta la muffa. Oddio, ho sbagliato, non dovevo cambiare le finestre. Cambio il generatore, metto per esempio questo qua, una caldaia a cippato, a pellet, e niente, mi porta a casa di nuovo la muffa. Oddio, torniamo indietro. Scusate, c'è un po' di ritardo. L'errore è stato sbagliato a riqualificare? No, è che la riqualificazione è stata fatta senza tenere conto di tutta una serie di possibili criticità. Facciamo un passo indietro. Quando sono state cambiate le finestre, prima avevo delle finestre scadenti, magari con vetro singolo. Cosa succedeva? Che se il punto più basso della temperatura superficiale all'interno del mio ambiente lo avevo sulle finestre e quindi l'umidità presente nell'ambiente andava a condensare dove? Sulla finestra. Vi siete mai accorti? Dal frigorifero tirate fuori una pentola, l'appoggiate sul bancone, cosa succede? Cosa succede? Niente. Si forma la condensa, ecco. D'inverno succede questo, se ho un elemento freddo lì si forma la condensa, ok? Cambio le finestre, metto delle finestre performanti, metto un monocamera o triplo vetro, quindi vado a isolare il mio elemento, la temperatura più bassa non ce l'ho più sul vetro delle finestre o sulle finestre, ma ce l'ho dove? Dove ci sono i ponti termici. Quindi non è colpa della sostituzione delle finestre, è colpa che chi è intervenuto, che ha fatto la progettazione di riqualificazione doveva tener conto del problema dei ponti termici, quindi doveva contemporaneamente andare a risolvere i ponti termici o comunque andare a intervenire su quello che è il sistema di gestione dell'umidità all'interno dell'ambiente, per esempio installando un sistema di ventilazione meccanica controllata che controlla l'umidità degli ambienti. Non avendo fatto queste due cose ci portiamo a casa un problema, quindi non è un problema delle soluzioni, è un problema sostanzialmente di attenzione a quello che si va a fare. Per esempio noi per valorizzare queste cose abbiamo creato Energy Check Casa Clima che ha proprio lo scopo di mandare un tecnico che va a fare un rilievo e dà quelle indicazioni importanti di massima, quelle che veramente sono utili nell'ambito della riqualificazione. Nel concetto della riqualificazione del protocollo Casa Clima noi abbiamo applicato proprio queste cose, che cosa è veramente importante per la riqualificazione? Una cosa che abbiamo capito è che l'efficientamento energetico è sì importante, però non è così fondamentale riqualificare un edificio e portarlo in ZEB, non è qualcosa di stupido, non ha senso, ha più senso invece riqualificare l'edificio e fare attenzione a risolvere i ponti termici, a risolvere tutte quelle criticità che nel tempo potrebbero portare muffa, potrebbero portare al discomfort all'interno degli ambienti. E questo è il nostro protocollo R. Vediamo un po', arriviamo alle slide e quindi vedete questo protocollo ha come obiettivo, non un obiettivo fisso, un po' simile se vogliamo al 110 oggi nazionale che chiede il salto delle due case, ma un po' più spinto. Lui dice guarda tu mi fai il calcolo casa-clima dello stato di fatto e mi devi garantire il miglioramento almeno del 50% sull'involucro, attenzione, perché questa classificazione noi la facciamo solo sul fabbisogno dell'involucro. Anche perché, guardate questo esempio, se noi andiamo a prendere il sistema nazionale, questa è la palazzina in zona climatica D, adesso non so se qua siamo in C, qua siamo in C forse, C-D, insomma ce la giochiamo, quindi siamo abbastanza vicini come zona. Decidiamo di fare la qualificazione, risolviamo i ponti termici eccetera, lo stato di fatto è una classe E nazionale e lo stato di progetto praticamente lo portiamo in C senza essere intervenuti sull'involucro, abbiamo sostituito solo il generatore, abbiamo messo su un po' di fotovoltaico, però qui rischiamo che effettivamente l'edificio poi a conti fatti non sia così efficiente. Invece se noi facciamo la stessa cosa con la classificazione casa clima, vedete che l'involucro non cambia, l'involucro era un edificio in zona e in classe E, è rimasto sostanzialmente in classe E, non cambia assolutamente perché sull'involucro non ho fatto niente. Cosa succede invece se faccio la riqualificazione tenendo conto anche dell'involucro, secondo un processo casa clima, guardando cosa succede alla nazionale, io praticamente intervengo e il mio edificio viene portato in classe addirittura A1 e come vedete c'è il miglioramento del 50% dell'efficienza dell'involucro. Questo è un po' come dire, nell'ambito dei sistemi di riqualificazione casa clima, garantiamo che gli edifici sostanzialmente vengano fatti quegli interventi veramente importanti, principalmente che devono essere legati all'involucro. Questi sono i nostri requisiti, come vedete quindi soluzioni dei ponti termici, i cappotti devono essere installati con determinata attenzione, molto importanti abbiamo una serie di requisiti che riguardano la protezione dell'edificio dal caldo sugli elementi opachi e poi abbiamo visto il blur door test, stessa attenzione che abbiamo poi per i sistemi di ventilazione meccanica controllata. Queste sono alcune foto che fa vedere per esempio gli controlli che facciamo durante la fase di cantieri di realizzazione dell'edificio, quindi foto che mostrano proprio le stratigrafie che sono state realizzate oppure le tipologie degli impianti eccetera. Perché è importante basarsi sul concetto dell'involucro, perché è quello anche l'obiettivo di progettazione. Quando si parla di calcoli termotecnici si rischia di spaventarsi, tante equazioni, tante cose, però alla fine i concetti che stanno alla base per definire, per misurare l'efficienza dell'edificio sono veramente banali e uno di questi è sostanzialmente il concetto della prestazione dell'involucro. Questo QH sostanzialmente è il fabbisogno, cioè quanta energia io devo dare a quell'involucro di quell'edificio per garantirmi durante il periodo di riscaldamento i 20 gradi all'interno del mio edificio. Chiaramente questo edificio ha delle perdite, le principali perdite che ha sono perdite per trasmissioni, che sono gli elementi che costituiscono l'edificio, le perdite per ventilazione perché io devo arrieggiare il mio edificio, devo fare girare l'aria, quindi per obbligo normativo devo aprire le finestre e ricambiare l'aria. Quindi in inverno che ho l'aria calda, cosa succede? Devo buttare fuori l'aria calda a 20 gradi e se fuori ci sono 5 gradi devo tirare dentro l'aria a 5 gradi, quindi devo spendere l'energia poi per raffreddare quell'aria. In più ci sono degli apporti gratuiti, che sono gli apporti interni, che sono le varie fonti di calore delle varie parecchi che ho in casa e poi gli apporti solari che è l'energia che entra attraverso le finestre. Ora, questa equazione è un'equazione molto stupida di bilancio che mette insieme la quota della perdita quindi di energia per trasmissione, energia per ventilazione è rispetto a quello che può essere il guadagno che sono gli apporti interni e gli apporti solari. Quando io vado a coibentare il mio edificio, vedete cosa succede? Diminuisco le perdite di trasmissione, diminuisco le perdite per trasmissione, più coibento più diminuisco queste perdite per trasmissione. Poi esistono le perdite di ventilazione, come faccio? Posso però ridurle. Invece di buttare fuori l'aria calda d'inverno e tirare dentro l'aria fredda, crea un circuito cosiddetto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, cioè c'è una macchinetta che praticamente quando l'aria calda esce prende il calore di quell'aria calda e quando prendo l'aria fredda dall'esterno e la riporto dentro mi riscalda e mi pre-riscalda quell'aria. Quindi io sostanzialmente non butto via calore. Quindi posso arrivare addirittura a pensare a degli edifici che quasi non hanno bisogno dell'impianto di riscaldamento. Ed è questo quello che succede quando ci si spinge facendo attenzione all'involucro. Ma perché noi rompiamo così tanto le scatole su questa cosa? Perché purtroppo nell'ambito della certificazione nazionale la classificazione che viene fatta è una classificazione che ancora viene fatta con involucro più gli impianti. Quindi se io ho tanto rinnovabile alla fine posso avere un involucro scadente, non una classe A a casa clima, posso avere una classe E a casa clima con una pompa di calore, tanta fonte rinnovabile, per esempio fotovoltaico e posso avere un 4A. Quindi è un edificio molto efficiente, ma è molto efficiente sulla carta. Rischiamo che poi quell'edificio non ci garantisca tutto quel comfort che è scritto su quel documento. La stessa cosa un po' vale per l'estivo, l'abbiamo detto, effetto frigorifero. Quindi ciò che mi protegge dal freddo in realtà mi protegge anche dal caldo con alcune piccole attenzioni. Quindi isolare va bene, va bene anche per l'estivo. Molto spesso bisogna aumentare lo spessore di isolamento rispetto a quello che è il calcolo invernale proprio per, vedremo, garantire l'accumulo di calore sugli elementi opachi e cosa molto importante è che gli elementi vetrati devono essere schermati, cioè ci deve essere una schermatura che effettivamente fa sì che la radiazione solare non entri all'interno dell'edificio, perché se entra quel calore purtroppo io dovrò spendere energia per poi raffreddare il mio edificio. E questo l'abbiamo sintetizzato in queste cose. Uno dei vincoli che abbiamo nell'ambito della nostra progettazione è lo sfasamento. Noi chiediamo che un progetto nelle vostre zone climatiche abbia gli elementi opachi irraggiati dal sole, quindi non il solaio che va in cantina ma quelli esposti alla radiazione solare, quindi copertura e pareti, che abbia uno sfasamento minimo di 12 ore. Che cos'è questo sfasamento? È un modello per definire praticamente il ritardo in ore che può avere, per esempio questa è una parete, lì come vedete questa sinusoidale è l'andamento delle temperature, mettiamo a mezzogiorno la massima temperatura sulla superficie e la risposta che dà lo sfasamento è quanto tempo impiega quel calore a mezzogiorno a, non so, 80 gradi sulla superficie a entrare sulla superficie interna, perché quando quel calore entra nella superficie interna, cosa succede? Ho l'effetto radiatore, mi entra all'interno e mi comincia a scaldarmi la casa. Quindi questo valore è importante perché mi dà la misura di come la mia casa è in grado di proteggermi dal caldo. Capite? Perché minimo 12 ore? Perché con 12 ore sono tranquillo che se a mezzogiorno ho la massima temperatura, il calore potrà entrarmi in casa quando? A mezzanotte, ma a mezzanotte il sole è già calato da 4-5 ore e quindi la temperatura esterna e la radiazione incidente sulla superficie non c'è più. Quindi questo calore non è riuscito nemmeno a entrare, è arrivato a un quarto o a metà della mia parete che poi, visto che cambia, voi sapete che il calore si sposta da una fonte più calda a una fonte più fredda, quindi cambiando le temperature all'esterno succede che il calore entra leggermente per poi riuscire. Quindi la mia parete è pronta per il giorno successivo a fare lo stesso giochetto e quindi è in grado di assorbire, come si dice, l'onda termica e facendo così mi protegge dal caldo. Cosa analoga? Questo lo vediamo qua, purtroppo ho visto che è un po' tutto sgranato e lo devo solo descrivere a voce, vado veloce perché si legge poco, però ho fatto una simulazione per esempio questo è il nostro software, il nostro software è un software, ripeto, libero, gratuito che potete liberamente scaricare e vi permette di fare queste analisi, quindi vi fa un calcolo dello sfasamento. Se noi andiamo a prendere una parete in laterizia da 30 cm, ha uno sfasamento di circa 7-8 ore, quindi che sarebbe troppo poco per la nostra certificazione, però se voi andate a mettere un cappotto, in questo caso ho messo un cappotto in EPS da 15 cm, effettivamente si raggiungono le 12 ore, quindi non demonizziamo l'isolamento, l'isolamento aiuta effettivamente anche d'estate. E poi la questione delle protezioni, le vetrate devono essere protette, noi non certificiamo gli edifici se non hanno delle schermature esterne, se tu non mi garantisci che hai la possibilità di avere una schermatura esterna, abbiamo una serie di vincoli ma sostanzialmente non certificiamo l'edificio. Lo vedete in questo esempio, un edificio vetrato senza schermature ha una quantità di surriscaldamento tale che poi si è costretti a mettere un impianto così importante che lavora costantemente e che consuma tantissimo, quindi per fare risparmio diventa fondamentale progettare anche qui in modo corretto il sistema di schermature. questioni ponti termici, quelli che vedete qua sono degli edifici, questo si chiama termoforesi in cui il ponte termico, cioè il punto più caldo dell'edificio ha fatto sì che non si sia formato una stratificazione di alghe e di muffe. Ma che cosa indica? Io la chiamo sempre termografia naturale, perché vedete, si legge addirittura, il passaggio vi dice questo, quindi è un edificio che ha gravi problemi di ponti termici. Ricordo che questo edificio qua l'ho fatto, è qua in Puglia, quindi ricordo che il ponte termico non è solo un problema del nord Italia, è anche un problema vostro e deve essere risolto quindi. Quindi bisogna iniziare a pensare, a progettare gli edifici in modo tale che siano privi di ponti termici. Se c'è il ponte termico cosa succede? All'interno le temperature si abbassano dove c'è il ponte termico e quindi si può formare la muffa. La muffa è un problema igienico-sanitario che può mettergli veramente in crisi il vostro appartamento. Questi sono alcuni calcoli, non entro in merito, troppo complicate, arrivo invece al documento forse più interessante che abbiamo sviluppato, cioè questo catalogo casa clima, tra i documenti pubblici che abbiamo sviluppato c'è il catalogo casa clima. Che cos'è? Come vedete è un abaco che raccoglie diverse tecnologie costruttive e diversi nodi caratteristici che abbiamo risolto da un punto di vista termico. Quindi sostanzialmente dal catalogo voi avete tutta una serie di indicazioni per andare a risolvere il vostro dettaglio costruttivo e siete sicuri di non avere un problema di ponte termico. Perché si garantisce in determinate condizioni climatiche esterne, per esempio nelle vostre zone climatiche abbiamo preso come temperatura di riferimento il più 6 gradi, come media del mese più freddo e vi garantiamo quindi nel nodo con quel tipo di isolamento, quel tipo di spessore di isolamento i 17 gradi. Quindi anche dal punto di vista didattico, io penso che sia uno strumento utile nell'ambito della progettazione. Chiaro qua poi ci sono tutte le schede, avete anche la posizione delle finestre, avete, vedete qua sono tutti i calcoli che sono stati fatti col FEM e poi non solo, abbiamo sì dato indicazioni di isolamento, abbiamo dato anche indicazioni di come deve essere progettata la tenuta all'aria, quindi un documento che guarda anche al progetto della tenuta all'aria. Per esempio raccogliamo anche le soluzioni di edifici con strutture in legno, una delle cose più importanti nell'ambito della progettazione degli edifici in legno è l'attacco a terra. L'attacco a terra deve essere fatto in un certo modo e lì diamo indicazioni di come realizzare in modo corretto l'attacco a terra, perché altrimenti se si fa in modo scorretto il rischio è che poi ci producano delle marce scienze o dei danni. Queste sono le situazioni praticamente corrette. queste sono quelle indicazioni che vi ho dato dove poter scaricare il catalogo Casa Clima. Comunque basta che scrivete in Google catalogo Casa Clima e lo potete anche fare adesso, ecco smartphone, arriva subito. Scusate c'è un po' di ritardo. Se qua è una domanda che faceva è difficile fare delle simulazioni FEM? No, in realtà non è difficile anche dal punto di vista didattico, potrebbe essere una bella occasione. Abbiamo fatto dei corsi nelle scuole superiori nell'uso del termo, il termo è un software gratuito della Berkeley University, è nato per altri scopi, ma possiamo adattarlo per fare le simulazioni, le verifiche quindi dei ponti termici agli elementi finiti. Noi facciamo anche dei corsi online su queste cose e praticamente per fare la verifica anche di un edificio, di un nodo esistente, per esempio ho un edificio tipo questo, un edificio con un sistema cassa, cassa vuota, ma mi conviene di più fare l'isolamento, come qua vedete, l'isolamento con interstiziale, cioè riempiendo con magari un materiale per insufflaggio, oppure mi conviene fare il cappotto. Come faccio a capire se la temperatura è buona o meno? Devo fare una simulazione di questo tipo e guardate queste simulazioni qui, quando uno conosce un po' il software, si possono fare in 5-10 minuti. Anche da un punto di vista formativo può essere veramente molto interessante. Noi facciamo dei corsi dedicati su queste cose, se siete inserisati magari anche contattatemi, qui è più una questione che è legata ai vostri professori. Veniamo un po' poi alle cose che noi come Casa Clima controlliamo. Cappotto. Cappotto è un sistema che deve essere posato secondo un determinato criterio. Sistema vuole dire che non è solo il materiale isolante che è l'elemento importante. Certo, è l'elemento principale, ma tutti gli elementi che caratterizzano quel sistema diventano un po' come l'effetto catena. Se si rompe una maglia della catena, la catena si spezza. È un po' la stessa cosa il cappotto. Se per esempio il cappotto è incollato male, vedete quello? Quello è un incollaggio per punti. Il cappotto incollato per punti è vietato. Rischi che quel cappotto lì nel tempo possa cadere. Se c'è una bufera di vento, soprattutto vento che spinge, ma soprattutto estrae, il cappotto potrebbe collare. Noi nell'ambito nostro di certificazione, se vediamo situazioni di questo tipo, chiediamo che il cappotto venga rimosso e rinstallato, oppure non è possibile fare la certificazione. Oppure l'attenzione ai dettagli costruttivi. Anche qui, nel sistema cappotto c'è tutta una serie di elementi costruttivi che devono essere progettati come progettisti non delegate questo compito al cappottista. Alcuni nodi, i collegamenti, eccetera. Questi devono essere progettati molto spesso in scala 1 sta 1, 1 sta 2. Ma dovete farli. Se non li fate, rischiate di avere questi problemi. Altra questione, visto che siamo in un clima estivo, è il colore. Le norme del cappotto chiedono che non vengano usati colori che assorbono eccessiva radiazione solare. Perché rischiano di scaldare questo? Un cappotto, per esempio, dove, vedete questo buco? Non è stato scavato. È materiale che ha raggiunto temperature superiori ai 100 gradi e praticamente si è trasformato in gas. È accaduto in un ciclo. Praticamente è stato fatto il cappotto e dopo hanno visto queste bolle. Quindi sono andati dietro a vedere cosa succedeva dietro queste bolle e niente, non c'era più cappotto. E qui vedete alcune situazioni di temperatura. Vado alla slide più interessante che è questa. Stessa situazione, stessa facciata, stessa esposizione. Qui si legge un po' male, ma qui ci sono più di 80 gradi e qua ce ne sono 44. Quindi attenzione a queste cose. Altre questioni su cui noi poi facciamo grande attenzione, come dicevo, è la tenuta all'aria. Ma soprattutto deve entrare nella testa dei progettisti questa parola. Bisogna progettare la tenuta all'aria. Perché è fondamentale. La tenuta all'aria garantisce prestazione dell'edificio, ma anche durabilità. Questa per esempio è la posa degli infissi. Perché? Immaginate che questo è il vostro edificio. L'acqua che avete all'interno è l'aria che avete riscaldato d'inverno, che avete raffreddato di estate. Il livello è sostanzialmente la temperatura di quell'aria. Se avete un edificio che è una sorta di, come vedete, di groviera, che disperde. La cosa succede? Che io se voglio mantenere un certo livello di temperatura devo continuamente mettere dentro liquido. Devo mettere dentro continuamente energia. Devo spendere soldi, ma devo spendere soldi anche, devo spendere diciamo così, devo avere anche un costo ambientale, non solo un costo economico. Se l'edificio invece fosse ben sigillato, mi basterebbe solo uno di questi sorgenti. Questo è un blower door test fatto in un edificio certificato secondo la certificazione nazionale standard, in classe A4. Noi abbiamo come limite 1,5. Guardate che cosa si è tenuto di questo blower door test. 10,28. Vuole dire che 7,8 volte più o meno, diciamo così, di tenuta rispetto al nostro edificio, ma soprattutto è come se aveste una finestra nella vostra casa sempre aperta, aperta d'estate, aperta d'inverno. Quindi raffreddate e avete questa finestra che continua a volare via la vostra energia. E questi sono appunto l'attenzione agli elementi di collegamento. Ma non è solo una questione energetica la tenuta all'aria, è anche una questione di durata dell'edificio. Vedete queste situazioni di marcescenza, soprattutto queste, delle coperture in legno. Che cosa è successo? Che l'aria calda d'inverno, quando passa la vostra copertura, poi man mano si raffredda e può raffreddarsi fino a un punto dove l'umidità contenuta nell'aria praticamente torna ad essere acqua. Bagna costantemente il legno che poi lo fa marcire. Guardate questo tetto è marcito in due anni, non in 15 anni, tanto per dire. Quindi è importante sigillare l'edificio in modo tale che quell'aria umida stia dentro l'edificio per garantire proprio la durata dell'edificio. E queste sono le soluzioni che si devono applicare. Sigillare gli attraversamenti, sigillare anche i corrugati elettrici, facendo così poi si ottengono valori di blur dot test, come vedete, molto molto bassi. E poi questa attenzione comunque ripetuta, poi tutti gli elementi che collegano l'edificio, uno degli elementi più sensibili sono proprio i collegamenti delle finestre. Purtroppo devo dire questa cosa, qui il progetto viene fatto dal produttore delle finestre, qui magari il progetto appunto viene fatto, comunque la realizzazione viene fatta dal muratore, da chi realizza il muro, però qui nel collegamento finestra-muro o c'è un'azienda come le nostre finestre certificate che hanno un controllo di quello che è il falso telaio, altrimenti dovete essere voi, voi progettisti che andate a studiare questo elemento di collegamento. Quindi anche questo, attenzione, la vostra formazione. Sempre di più la formazione di un tecnico entra nel dettaglio e bisogna acquisire queste competenze. Chiaramente però ci sono i manuali, ci sono le norme, tutti i manuali che citano questa norma, la 11.673 è la norma di posa delle finestre, quindi vi spiegano come devono essere posate le finestre in determinate condizioni. Poi per chiudere volevo sfatare un altro mito che era quello della ventilazione meccanica controllata, un sistema inutile. Direi di no, l'abbiamo visto, è molto utile soprattutto quando c'è un sistema di recupero di calore perché non mi fa buttare via sostanzialmente, io non devo arieggiare i miei ambienti sprecando energia, ma soprattutto diventa fondamentale per tenere livelli interni di qualità dell'aria molto molto alti. Esempio, questa è una camera matrimoniale senza ventilazione meccanica controllata. Allora, da norma il limite di tolleranza dell'anidride carbonica sono mille parti per milione. Oltre le mille parti, quando voi siete in un ambiente, tipo in classe, se voi siete in classe, in classe c'è la ventilazione? No. Allora, in Svizzera tutte le classi hanno un apparecchietto, non costa tanto, costa 100-110 euro, un apparecchietto grande così, lo mettono sulla cattedra e quando questo apparecchietto misura la CO2, quando la CO2 supera le mille parti per milione, l'insegnante blocca la lezione e apre le finestre. Perché? Perché si sa che oltre questa quota qui, si riduce la quantità di ossigeno e noi iniziamo, il cervello inizia a lavorare meno, no? Si dice che si inizia a diventare catatonici, cioè voi seguite meno la lezione, magari il professore che ormai è allenato, perché lui parla, però voi incominciate. Perché? Perché manca ossigeno, ma questo quindi è molto importante, ma soprattutto è importante quando anche dormite, voi un terzo della vostra vita la passate a dormire, il sonno è un punto molto importante, spero, perché è molto importante perché durante il sonno il corpo è come se si rigenerasse, no? È come se lui facesse un reset, no? E l'ossigenazione è fondamentale perché l'ossigeno è cibo per la cellula e questa rigenerazione cellulare se non c'è ossigeno non è possibile farla. Cosa succede se iniziamo invece ad avere anidride carbonica? Guardate qua che livelli, addirittura 4.400 parti per milione, chi dorme in questa casa con questi livelli di anidride carbonica si risveglia che praticamente è stanco, ha mal di testa, emicrania, non sta bene, eccetera, eccetera. Mi è capitato in tantissime case dove persone con allergie, insonnia, con dolori diffusi, emicrania, insomma 100 malattie, vivendo in una casa confortevole, con il sistema di ventilazione meccanica controllata, quindi con un'ossigenazione costante, no? Dell'edificio, è iniziato a stare bene. Addirittura in alcune è scomparsa addirittura l'allergia e l'asma. Quindi, quindi bene, insomma. Bisogna cercare di arrivare a questi tipi di edifici. Ah, piccola qua, nota, scusatemi, c'è un ritardo, scusatemi, piccola nota, tutte queste indicazioni le potete trovare anche nei nostri corsi base che sono in FAD, questo parlo un po' per gli insegnanti, se c'è necessità, eccetera, si possono magari anche mettersi d'accordo, comprare i pacchetti e cose, insomma, se non c'è la possibilità di andare noi da voi, diciamo, oggigiorno è possibile fare anche via web. Bene, passiamo all'altro relatore, grazie. Buongiorno a tutti, sono l'ingegner Fabrizio Calia e oggi vi parlo di un caso pratico, di una riqualificazione di un edificio esistente qui nella nostra zona, precisamente a Santeramo in Colle. Qui sulla sinistra vedete appunto un ortofoto della zona di intervento, è il classico edificio anni 60, circa, 60-70 dei nostri paesi, delle nostre città, dove chiaramente vi è un'enorme dispersione di calore. Come dati di ingresso abbiamo una superficie riscaldata di circa 250 metri quadri e siamo in presenza di chiusure verticali opache in tufo con interpostolo intercapedine d'aria e delle classiche chiusure orizzontali opache in latero cemento. Ovviamente, entrando allo stato, questa è un'immagine dello stato dei luoghi, l'immobile era adibito ad una manifattura tessile e le principali problematiche erano una dispersione termica enorme e ovviamente un pessimo conforto interno. Condizioni classiche degli edifici delle nostre periferie, edificati tra gli anni 60, 70 e 80, dove chiaramente si mettevano, si faceva il telaio in calcestruzzo armato, si mettevano dei laterizi e l'involucro era fatto, non si pensava appunto al comfort che si doveva avere all'interno di un'abitazione. Poi magari mettendoci un impianto enorme si cercava di riscaldare o di raffrescare lo stesso ambiente. Quindi questa era la situazione alla quale ci siamo trovati davanti. I committenti dovevano, anzitutto, ci hanno richiesto un cambio di destinazione d'uso perché da manifattura tessile oggi questo edificio, questa unità immobiliare è un ambulatore dontoiatrico, dove all'interno ci sono 5 riuniti, quindi ci lavorano costantemente 4-5 dottori, oltre a delle zone riunioni, sale d'attesa e quant'altro. Quindi la prima necessità era un cambio di destinazione d'uso e chiaramente una diversa distribuzione degli spazi interni. Ci è stato richiesto un elevato standard di comfort interno ed anche un costante ricambio d'aria interno, anche perché sono dei requisiti che richiede l'ASL locale, l'ASL Bari, ma anche chiaramente a livello nazionale, per far sì che in un ambulatorio dontoiatrico sia assicurato un costante ricambio d'aria. A seguito di queste richieste è nata l'idea di certificare l'edificio, di richiedere una certificazione Casa Clima R, appunto io sono consulente e quindi siamo andati avanti su questa strada. Qui sempre sulla sinistra vedete le immagini dello stato dei luoghi, abbiamo fatto dei saggi nella muratura per renderci conto effettivamente in ogni punto di che tipologia di stratigrafia avevamo davanti, anche perché è richiesto dall'agenzia, sono tutte cose che richiede l'agenzia nel caso di riqualificazione per accertarsi con i propri occhi che il calcolo che si fa successivamente è effettivamente rispondente alla realtà. A livello di studio poi noi abbiamo fatto delle indagini diagnostiche non distruttive inizialmente con l'ausilio di una termocamera di infrarossi è stato possibile in questo caso specifico, chiaramente la diagnosi della termografia è una scienza con molteplici utilizzi, in questo preciso caso ci siamo occupati di individuare anzitutto le zone con maggiori dispersioni termiche per poi correggere gli eventuali, andare lì a disolare in maniera più efficiente eccetera, ma soprattutto è stato utile, qui si vedono già i pilastri, la struttura portante dell'edificio per capire come era fatto l'edificio e successivamente mappare le travi e i pilastri dell'edificio stesso. Qui vediamo altre immagini, questo è un solaio e l'altro cemento, grazie appunto a questa tecnica noi sapevamo dove erano tutti i pilastri e le travi e anche successivamente nella fase di progettazione è stato possibile correggere più facilmente, sapere dove appunto erano più possibili il verificarsi di ponti termici, poc'anzi spiegati insomma dal collega De Vigili, architetto De Vigili. Questa è un'altra immagine agli infrarossi, siamo quindi poi passati alla fase progettuale e velocemente vi faccio vedere le diverse tipologie perché trattandosi di un edificio esistente, chiaramente nella fase progettuale non avremo solamente una tipologia di stratigrafia ma in questo caso avevamo quasi tutte le pareti confinanti con esterno, quindi verso bano non riscaldato, ma avevamo anche una piccola porzione di muratura confinante con un altro edificio parzialmente riscaldato e poi i solai superiore verso un'altra unità immobiliare riscaldata, inferiore verso un garage e parzialmente verso una palestra oramai dismessa, quindi comunque una condizione abbastanza estrema come dispersioni termiche. Qui siamo davanti a, questo è uno screenshot del programma di calcolo dell'agenzia Casa Clima, il Pro Casa Clima, che viene richiesto appunto fare questo calcolo dall'agenzia per poter certificare tutte le fasi progettuali e gli interventi da sostenersi. Qui siamo della chiusura verticale opaca in tufo con intercappettine d'aria, un po' sgranata l'immagine purtroppo non si vede, ma sostanzialmente la cosa più importante come appunto è stato detto poc'anzi è il valore di sfasamento oltre quello classico di trasmittanza che più o meno tutti ne parlano, ma noi in agenzia, l'agenzia richiede a noi consulenti soprattutto uno studio dello sfasamento, in questo caso specifico, ripeto purtroppo non si legge, era di circa 12 ore e mezza, quindi un valore ottimale per la zona climatica che in questo caso specifico è una zona climatica D, quindi mi sono scordato di dirvi a differenza magari della città di Bari che è una zona climatica D, a Sant'Eremo in Colle abbiamo degli inverni molto freddi, oltre a delle estate molto afuose, molto freddi chiaramente per il nostro clima, rispetto a Bari ci sono sempre 5-6 gradi in meno, quindi questi erano i dati di ingresso e siamo arrivati poi ad isolare questa specifica chiusura con dei pannelli in EPS dello spessore di 10 cm, quindi polistireno espanso, con del polistireno espanso estruso alla base per i primi 50 cm circa, per evitare eventuali danni arrecati dall'acqua piovana. Questa è la parete verso altro edificio, siamo andati ad isolare internamente, alla base della nostra progettazione c'è la filosofia casa clima, ovvero l'involucro deve essere totalmente isolato, non devono esserci lati lasciati freddi o comunque scoperti, quindi si deve chiudere il nostro cappotto, pertanto siamo andati ad isolare anche le pareti interne confinanti con altro edificio, con un cappotto interno del tipo cappotti preaccoppiati con un pannello di schiuma poliso e un pannello in cartongesso lato interno, al quale poi c'è una barriera al vapore sul lato caldo per evitare eventuali problemi di condensa e muffa, comunque problemi complessivi. Dello spessore in questo caso di 63 mm, velocemente questo è il solaio di base di calpestio verso garage, isolato con un pannello in polistirene espanso estruso, quindi XPS, sempre dello spessore di 10 cm, XPS perché l'XPS è anche un materiale con una maggiore resistenza a compressione, quindi chiaramente essendo un solaio di calpestio in uno studio medico dove entrano ogni giorno numerosi pazienti, si è preferito utilizzare un XPS. Solaio di copertura confinante, anche in questo caso da sottolineare, con altre unità immobiliari, quindi teoricamente avremmo anche potuto non coibentarlo, ma ovviamente trovandoci in una certificazione, volendo arrivare a certificare l'edificio Casa Clima R, è stato anch'esso isolato con dei pannelli in EPS da 10 cm. Premetto che, avete visto la foto, l'immobile allo stato dei luoghi aveva un'altezza che permetteva di andare ad isolare sia 10 cm a pavimento che a soffitto, poi nello studio, nel progetto architettonico è stato comunque ulteriormente abbassata l'altezza, avevamo 4 metri circa, si è giunti a dei locali tutti tra i 2,70 e i 3 metri massimo, o 3,30 se non sbaglio. Qui ci troviamo davanti sempre agli studi fatti dopo aver scelto o comunque durante la fase di scelta dei materiali isolanti, è stata fatta un'analisi agli elementi finiti, l'abbiamo vista prima, quindi un'analisi FEM con il software TERM, di cui si parlava prima, è un software gratis, quindi facilmente utilizzabile, che ci permette di andarci a studiare effettivamente i punti dove noi progettisti pensiamo possano esserci ponti termici o comunque i nodi alla base, in questo caso è l'attacco a terra, dove in questo caso siamo in regime in regime invernale, ma la stessa simulazione sullo stesso nodo è richiesta dall'agenzia anche in regime estivo. Diciamo che in una casa clima R è richiesta qualora ci possano essere dei punti dove ci siano delle condizioni per il verificarsi di ponti termici. La cosa fondamentale di questo studio è capire poi effettivamente sia chiaramente il flusso termico da dove passa maggiormente, ma capire la temperatura nel nodo che deve essere sempre superiore a determinati valori, in questo caso in regime invernale 17 gradi, per far sì che non si creino possibilità di muffa e condensa. Questo è l'altro nodo, velocemente anche in questo caso è stato studiato il nodo superiore, sempre con il software di calcolo degli elementi finiti, regime estive e regime invernale. Successivamente siamo passati alla fase di progettazione impiantistica, anche in questo caso è importantissimo sottolineare che una buona progettazione deve considerare prima l'involucro, andare a fare il massimo, in questo caso in riqualificazione dell'involucro, lì dove arriviamo con i nostri cappotti, vediamo dal programma, dai calcoli, ci rendiamo conto del residuo fabbisogno termico ed andiamo ad inserire e a dimensionare l'impianto termico, in questo caso un impianto a tutt'aria, del nostro ambiente. La cosa principale di questo impianto è che abbiamo oltre 250 metri quadri, uno studio medico, quindi capite che c'è una costante richiesta di riscaldamento o raffrescamento all'interno per avere un ambiente confortevole. Abbiamo una macchina di soli 2,3 kilowatt di potenza assorbita, una resa termica di circa 6-7 kilowatt, ma comunque una macchina più piccola che ci può essere in un appartamento di 60-70 metri quadri. Questo perché è stata ovviamente fatta prima una progettazione dell'involucro per poi passare alla progettazione impiantistica. L'impianto scelto è una ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, qui sotto vedete gli schemi funzionali, il regime invernale e il regime estivo, il recuperatore di calore è del tipo attivo, quindi c'è anche una piccola pompa di calore all'interno, per questo la potenza assorbita è di 2,3 kilowatt, altrimenti se fosse solo una WMC, ventilazione meccanica controllata, parleremmo appunto di watt, non arriveremo a kilowatt, quindi c'è una piccola pompa di calore che ci garantisce un costante ricambio d'aria, così come richiesto sia dai committenti che dalla ASL, ma anche comfort interno e comfort esterno, con una potenza assorbita davvero davvero piccola, date le dimensioni dell'immobile e le numerose superfici, qui vedete la pianta, le numerose superfici disperdenti. Siamo giunti in questo caso specifico ad una certificazione Casa Clima B, l'agenzia Casa Clima tra le due fasce di certificazione, tra le due colonne, l'efficienza invernale e l'efficienza complessiva, considera il dato peggiore, quindi nell'efficienza dell'involucro vedete che raggiungiamo una A, ma nell'efficienza complessiva una B, pertanto si giunge ad una classe complessiva B, ovviamente sottolineo che è una riqualificazione e non è neanche stato possibile installare purtroppo un impianto fotovoltaico che avrebbe aiutato tantissimo a consumare meno energia elettrica da rete, quindi ad avere una percentuale di fabbisogno energetico da fonti rinnovabili superiori. Vi faccio vedere le fasi di cantiere, questa è la posa del cappotto, è già stato detto ovviamente che un cappotto non deve essere messo in maniera casuale, questo è il pannello sulla sinistra in EPS, sulla destra si vede l'EPS in bianco, l'XPS alla base, poggiato su un terminale metallico che è quello azzurrino, bisogna seguire un preciso schema di tassellatura, la posa deve essere seguita dal basso verso l'alto e una cosa che oggi si vede purtroppo fare molto spesso, la posa deve essere assolutamente aggiunti verticali sfalsati, i cappotti non devono essere messi precisi sul prospetto senza badare al diverso sfalsamento dei giunti, altrimenti si crea un disastro sia dal punto di vista termico ma anche dal punto di vista della stabilità dei pannelli stessi, qui sempre sulla destra lo schema di pannellatura tracciato in cantiere all'impresedile e a sinistra vi faccio vedere che abbiamo addirittura, più che addirittura, comunque isolato anche il vano tecnico dove sono contenute le macchine, la ventilazione meccanica dell'ambulatore dontoiatrico, è stata integralmente coibentata per far sì appunto che la macchina di ventilazione meccanica controllata lavorasse meglio ad una temperatura comunque costante, non subisse grosse variazioni termiche durante il giorno. Questa è la posa del cappotto interno, questa è la posa dell'isolamento del solaio di base, sempre aggiunti sfalsati, le chiusure verticali trasparenti, qui sulla sinistra vediamo la posa, abbiamo scelto l'utilizzo di un controtelaio termico, in questo caso in legno pieno, sul quale poi è stato posato un infisso in alluminio, sulla destra non si vede questo esposto a sud, tutti gli infissi esposti a sud sono ovviamente schermati, hanno delle schermature interne all'interno dell'infisso per far sì che durante il periodo estivo, comunque se c'è eccessivo irraggiamento solare, possa essere schermata la parte vetrata dell'immobile. Sulla destra si nota anche il dettaglio tecnico per risolvere un ponte termico alla base dell'infisso stesso, dove si vede un pannello in XPS che va imbattuta sull'infisso, in questo modo andiamo a risolvere il ponte termico. Questa è la parte della posa dell'impianto termico, come detto poc'anzi un impianto tutt'aria con emissione d'aria ed estrazione negli ambienti dove c'è aria in tutti gli ambienti, emissione ed estrazione e sola estrazione ovviamente negli ambienti come il bagno dove ci può essere aria viziata. Vedete che è un impianto tutt'aria, tutti i canali sono isolati con delle calze isolanti, queste grigie, tutti i canali di mandata dell'aria e quest'aria poi quella estratta viene come vi ho detto immessa nella VMC con recupero di calore per poi essere parzialmente recuperata all'interno come temperatura di partenza di aria di emissione. A fine lavori l'Agenzia Casa Clima oltre a dei controlli e dei costanti report durante le fasi di cantiere chiede a noi progettisti, questa è la vera differenza rispetto magari ad altre certificazioni o comunque anche alla buona prassi progettuale di qualsiasi progettista. la differenza è che l'Agenzia Casa Clima ci richiede costanti aggiornamenti, nomina un auditor esterno alla progettazione stessa che viene appunto in cantiere a fare sopralluoghi e aggiorna l'Agenzia, io come progettista in questo caso aggiornavo costantemente l'Agenzia Casa Clima con foto di cantiere, dettagli tecnici o insomma qualsiasi dubbio venisse anche all'Agenzia da chiedermi e a fine lavori vi è infatti il Blower Door Test che viene fatto con questo strumento qui sulla sinistra e l'immobile viene messo in pressurizzazione e poi depressurizzato per far sì che vengano raggiunti delle richieste misurate in volume ora dall'Agenzia per poter finalmente essere rilasciata la certificazione, in questo caso si specifica anche che il Blower Door Test non è stato eseguito da me ma è stato eseguito da un tecnico terzo totalmente esterno alla progettazione, quindi ovviamente tutto quello che viene verificato sia durante le fasi di cantiere sia a fine lavori e sia controllato costantemente che è fatto da tecnici esterni, quindi chiaramente c'è un'ulteriore garanzia eventualmente per il committente. Questa è la foto a fine lavori, come vedete chiaramente a mio malgrado di tutte le parti impiantistiche è stata coperta, a me ovviamente piaceva vedere quel groviglio di tubi, piaceva vedere i cappotti posati in una certa maniera ma questo è l'effetto finale, era quello che la committenza ovviamente voleva e chiaramente tutti questi cappotti, quelli numerosi tubi di ventilazione dell'aria non sono più visibili e quello che vediamo è semplicemente uno studio molto grande, molto confortevole che soddisfa appieno le esigenze richieste inizialmente dalla committenza e in più possono ovviamente accogliere i propri clienti in uno dei pochi studi certificati Casa Clima R. Grazie a tutti. Grazie mille ad entrambi per la relazione, ci sono domande, qualcuno vuole chiedere qualcosa all'architetto, all'ingegnere, anche docenti, curiosità, approfondimenti? Posso che sono stati molto esaurienti e nessuna domanda? Sì, allora io vorrei ripetere un attimo alcune questioni di Casa Clima visto che stiamo parlando anche a degli studenti, abbiamo indicazioni di regia di spostarci, ci siamo? Perfetto, ha ragione, eravamo fuori. Va bene, visto che ci troviamo a parlare con degli studenti, quindi persone interessate a tutto quello che può essere l'approfondimento delle conoscenze su certe tematiche, su certe questioni. Mi ripeto, nell'ambito, diciamo così, dei nostri documenti tecnici, tutti i nostri documenti sono gratuiti, quindi il software, che poi è un Excel per fare il calcolo energetico, è gratuito, quindi dico anche agli insegnanti, sfruttatelo, può essere l'occasione per far capire come si fa la trasmittanza, come si gioca, come funzionano le cose, tanto le equazioni che stanno alla base, avete visto, per fare quel calcolo dell'edificio, è roba semplicissima, non si serve nel lauree, mia figlia che è in prima media riesce a fare questi conti, quindi insomma, non spaventatevi. In più, come avete visto, anche il catalogo, abbiamo anche un catalogo dedicato per la riqualificazione e via dicendo, quindi documenti che potete scaricare e utilizzare. Chiaramente noi come Casa Clima siamo anche attenti alle scuole, a chi vuole fare formazione e quindi nella nostra possibilità abbiamo anche dei pacchetti dedicati per una formazione dedicata alle scuole, vi dicendo. Nel caso contattateci, avete visto la mia mail, potete anche scrivermi, poi io vi rigiro a chi do dovere e così via. Anche nell'ambito che a me piace molto, dei calcoli FEM, che sembra una cosa così spaziale, così lontana dal senso comune. Oggi ci stanno specializzando fiori tecnici che fanno pagare queste verifiche, fiori di quattrini, ma in realtà si possono fare un po' semplicemente bypassando software magari molto cari, utilizzando un software gratuito, ripeto, questo termo della Berkeley. I ragazzi, voi siete del mondo di internet, voi siete del mondo degli smartphone, voi siete del mondo della tecnologia e anche dell'uso dei software, quindi imparare un software, dieci comandi di un software penso che non sia il vostro problema, è più difficile imparare magari qualche nuova app che dovete utilizzare sul cellulare. Quindi sfruttate anche queste opportunità, queste cose per acquisire quella formazione in più, che già oggi viene richiesta, ma domani sarà sempre più richiesta. Quello che abbiamo fatto vedere oggi come soluzioni eccetera, rappresenta delle attenzioni a una tecnologia che si è un po' modificata nel tempo, ma che sostanzialmente c'era già vent'anni fa. Non è che ci siamo inventati nulla di strano. Il problema, se vogliamo, è perché fino ad oggi non è stata applicata, come si dice in brutto termine, cogente, perché non è diventata legge, perché non è diventato obbligo fare un blower test, perché non è diventato obbligo entrare, quindi se fai il blower test poi io come progettista devo progettare il dettaglio in un certo modo, perché queste cose non sono entrate, questa è la domanda che ci si può fare. È andata così, probabilmente ci sono state delle lobby che hanno interessi di altro tipo, ma sempre di più, se voi vedete, la tecnologia in generale, cioè ciò che ci circonda, i vestiti, le scarpe, gli strumenti che stiamo utilizzando, vanno verso il miglioramento tecnologico. Quindi anche le nostre case, anche il progettare le case andrà sempre più verso l'applicare quello che oggi rappresenta una piccola nicchia, ma che domani sarà lo stato dell'arte del fare. Quindi cercate di portarvi avanti acquisendo queste competenze e queste conoscenze. Buongiorno, io sono il responsabile un pochettino che ha organizzato questo incontro e onestamente sono molto contento del fatto che degli argomenti trattati, proprio perché noi come docenti abbiamo l'obbligo di fare entrare un po' nella testa di questi nuovi progettisti questi concetti che già lo sanno, io ho organizzato il Ptco, proprio che si chiama risparmio energetico nell'edilizia sostenibile e già lo sto facendo, questo è il terzo anno, il terzo triennio che io ho iniziato. A me fa piacere, i ragazzi penso che non abbiano fatto domande perché voglio dire sono rimasti affascinati, però penso che non è come il primo diceva, nessun dubbio, nessuna domanda, è perché effettivamente loro stanno entrando in un mondo completamente nuovo, noi docenti stessi stiamo cercando di far capire, proprio venendo qua, perché noi veniamo dalla provincia di Benevento, ho detto che oramai le case si faranno solamente nei modi che vi spiegheranno, quindi dovete entrare in un mondo completamente nuovo, che se da una parte può sembrare difficile, dall'altra lo dovete vedere, le sue parole danno conferma alle mie, sono prospettive future che significano lavoro, io sono ingegnere da 60 anni, ma io queste cose, se voglio me le faccio, ma io oramai sono al termine della mia carriera, ma per voi devono essere proprio uno sprono, proprio come possibilità di lavoro rispetto al quale molte altre persone non ci sono, quindi se loro hanno questa visione e chiaramente avranno maggiori possibilità, quindi io li ringrazio per l'attenzione che hanno avuto, ringrazio voi per la chiarezza con la quale avete espresso concetti che per loro sono nuovi, forse per me un pochettino di meno, questa è la verità, però per loro sono sicuramente concetti molto nuovi, è una filosofia che dobbiamo dare, è un nuovo modo di pensare che dobbiamo dare, oramai bisogna progettare solo in questi termini e per noi che veniamo, anche i nostri libri di testo, non sono molto aggiornati, quindi è uno sforzo in più che noi dobbiamo, però lo facciamo con piacere perché sappiamo che è un'opportunità di lavoro per loro irripetibile, quindi vi ringrazio a nome mio, del nostro dirigente scolastico, a nome anche loro e complimenti per la chiarezza con la quale avete espresso i vostri concetti. Grazie, la prima è che scappiate via tutti perché sono arrivate due domande dagli studenti, aspetti che ci invertiamo, mi appoggio qui, due domande dagli studenti, una in streaming e una invece qui da un utente. Allora, lo studente guerriero, sempre Cat San Giovanni in Fiore, chiede che rapporti ci sono tra l'Agenzia Casa Clima e Green Building Council Italia. Intanto ringraziamo per la domanda che ha fatto. Bene, grazie per la domanda, ma i rapporti in realtà ci sono rapporti di rispetto reciproco e attualmente noi su alcune questioni siamo molto vicini, è chiaro che loro applicano dei sistemi di protocollazione che per noi rappresentano i protocolli più spinti, quindi sono protocolli di sostenibilità molto più spinti, quelli che abbiamo fatto vedere oggi sono un po' più concreti. Noi oggi abbiamo fatto vedere delle attenzioni che riguardano sostanzialmente il sistema edificio e impianto e la gestione di questa cosa. In una visione, diciamo così, come si dice, si usa un concetto, ormai lo dico, olistica, cioè un concetto più esteso di vita dell'edificio, allora non si prendono solo i parametri diciamo così energetici, di consumo, di comfort prestazionali, da un punto di vista termico dell'edificio, ma si prendono molti parametri, concetti di sostenibilità. Quindi si guarda un po' come si vive nell'edificio, se nell'edificio è stata fatta un'attività, come viene svolta l'attività, come viene vissuto il contesto all'intorno all'edificio, come è la gestione per esempio dell'infrastrutturazione intorno all'edificio, eccetera. Quindi in questo ambito in realtà, che è l'ambito un po' più stretto, più vicino a quello che è proprio la prestazione dell'edificio, è chiaro che noi stiamo rappresentando solo una piccola parte. Ci confrontiamo con loro, con i protocolli, quelli diciamo nostri di sostenibilità, come avete visto in precedenza, cioè il Clima Wine, il Climatel, il Work and Life, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo avuto e continuiamo ad avere occasionalmente quando capita occasioni di incontro e anche di collaborazioni. Grazie mille sia per la risposta che per la domanda dello studente. E poi invece un signore chiedeva dove si può trovare giusto il software cui facevate riferimento prima. Molto semplice, ho detto, allora, come tutte le home page delle varie aziende, poi il search all'interno della home page non funziona così bene come Google, diciamocelo. Anzi, potremmo anche quasi far vedere col computer. Alla fine, se in Google tu scrivi software casa clima, proprio software casa clima, vedrai che arrivi alla pagina dove puoi scaricare il software. In realtà poi lì troverai anche un open, che è una cosa che io un po' ho saltato, ma visto che tu sei un tecnico, tu sei un tecnico? Noi abbiamo anche un foglio Excel che funziona come traduttore del sistema di calcolo nazionale rispetto al sistema di classificazione casa clima. Quindi se tu hai fatto un calcolo di legge 10 con Edilclima, con Logicalsoft, adesso anche con Blumatica, puoi esportare un XML dedicato a casa clima che puoi rimportare in questo, si chiama casa clima open, che è un foglio che non fa nient'altro che tradurre quel calcolo nel nostro sistema di classificazione, che è un po' diverso perché hai visto prendere l'involucro, alcune equazioni non le tiene conto e via dicendo. In più c'è un altro software molto interessante, questo molto semplice da utilizzare, che è l'Igrothermal. Praticamente è un software gratuito che fa le verifiche igrotermiche dinamiche, cioè sostanzialmente fa il laser dinamico, cioè le verifiche di condensa interstiziale secondo la 15.026, che è quella appunto dinamica. Tu sai che se oggi la vuoi fare devi comprarti il software o Wufi o Delphi, noi abbiamo acquistato con un progetto europeo la licenza Delphi e l'abbiamo creato sostanzialmente un tool, quindi noi abbiamo il motore Delphi che fa questo calcolo e poi abbiamo creato un'interfaccia che è su piattaforma Excel per avere la restituzione dei calcoli e anche questo è gratuito, quindi a disposizione di tutti i tecnici volenterosi che vogliono guardare un po' più in là rispetto al Glaser mensile classico, trovi tutto lì. E anche poi il catalogo Casa Clima e vi dicendo, basta che scrivi Google catalogo e vi dicendo, ok? O Soft Casa Clima. Bene? Grazie mille anche qui sia per la domanda che per la spiegazione. Se ci sono altre domande, se non ce ne sono io ringrazierei ovviamente i relatori di oggi, Casa Clima come agenzia. Grazie a voi per la pazienza. No, ci mancherebbe. Tutti gli studenti e docenti in streaming, grazie mille per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento alla Fiera del Levante di Bari.